Un botto, ho sentito un botto. Il tremendo rumore dello schianto aveva già fatto intuire la tragedia agli abitanti della zona. Lo scontro tra una moto e un furgone è avvenuto verso le 18.30 lungo la Feltrina, a Postioma di Paese. Morto sul colpo il centauro alla guida della BMW, Antonio Pozzobon, 66 anni di Casier, ferita gravemente la 51enne che viaggiava con lui. L'incidente si è verificato davanti all'agriguolo e impianti elettrici, l'azienda per la quale lavora il 45enne alla guida del furgone. L'uomo aveva quasi imboccato l'entrata del parcheggio della sua ditta quando la BMW che arrivava da Treviso ha impattato con il cassone del mezzo. Un impatto violentissimo, tanto da far sembrare che le lamiere del furgone fossero state squarzate da un'esplosione. Sull'asfalto, a decine di metri di distanza, la moto distrutta, le scarpe insanguinate, il casco, le valigie laterali. Nell'impatto il furgone è stato spinto contro il muretto dove, a distanza di anni, per ironia della sorte, c'è ancora chi porta i fiori per piangere una vittima di un altro incidente mortale. Otto anni fa l'incidente è morto. Purtroppo così corrono come amati. Antonio Pozzobon era molto conosciuto a Casier, anche per essere chef e contitolare dell'osteria a casa mia di Casier. Lascia due figlie, con cui gestiva l'attività. Alla notizia della morte, l'osteria è immediatamente chiuso i battenti, con i clienti sconvolti per l'accaduto. Ieri, per il 66enne, era il primo giorno di ferie. A causare l'incidente forse è l'alta velocità o la visibilità ridotta dal sole. Sul posto sono intervenute le ambulanze del suo M118 e la polizia stradale di Treviso per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il traffico è rimasto paralizzato per almeno due ore a gestire la viabilità alla polizia locale di paese e la protezione civile. La data dei funerali verrà fissata nei prossimi giorni, non appena la procura autorizzerà la sepoltura. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi a carico del conducente del furgone è quella di omicidio stradale.